Ma chi l'ha detto che lavorare tanto e guadagnare poco è un valore? Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio fare un video veramente molto importante perché voglio iniziare a sradicare dei concetti che in Italia sono estremamente radicati nella nostra cultura oserei dire anche nel nostro DNA che ci fanno avere un atteggiamento completamente sbagliato nei confronti del denaro, nei confronti dei soldi e in più in generale nei confronti della ricchezza noi viviamo forse nell'unico paese al mondo dove essere poveri è quasi un valore si spacca la schiena dalla mattina alla sera eppure guadagna poco e non arriva a fine mese e viene quasi visto come un valore questa cosa qui ma ragazzi, lavorare tanto e guadagnare poco non è una cosa intelligente lo so che è qualcosa che potrebbe far arrabbiare molti di voi e potrebbe essere malinterpretata io non ce l'ho ovviamente a livello personale con nessuno sto semplicemente cercando di farvi ragionare ragazzi, una persona che lavora tanto e guadagna poco molto probabilmente non è stata una persona furba almeno lato finanziario parlando poi magari è una persona piena di valori è anche vero che in senso statistico e assoluto chi tendenzialmente riesce a vivere di umiltà riesce a godere del poco riesce ad apprezzare quello che che diciamo si suda col sudore della fronte poi dà anche un valore diverso alla vita rispetto magari di finti arricchiti magari ereditieri o che arrivano dalla televisione o quant'altro su questo possiamo essere d'accordo ma in senso finanziario ragazzi noi viviamo in un paese dove tutto funziona al contrario dove essere poveri è un valore mentre essere ricchi è visto come qualcosa di sbagliato ah ma chissà come ha fatto sì sicuramente è stato aiutato dai genitori oppure ha fatto qualche affare losco ha a che fare con la mafia oppure magari ha fatto qualche truffa beh tendenzialmente questi sono i pensieri che ci vengono in mente quando vediamo una persona tendenzialmente che ha successo in questo paese che è tutto il contrario ragazzi perché quando invece capita negli Stati Uniti o in Inghilterra in paesi occidentali comunque tendenzialmente abituati a persone che dal zero riescono a farsi self-made millionaire ok quindi milionari che si sono fatti da soli tendenzialmente le persone invece in quel contesto ti guardano cercando di imparare cercando di capire cercando di capire ma come hai fatto ad arrivare lì voglio arrivarci anch'io insegnami invece in Italia c'è tutto un altro tipo di atteggiamento io non ho mai visto un paese con così tanta invidia e così tanti preconcetti tutti sbagliati sul mondo del lavoro e per estensione sui soldi è una cosa proprio che abbiamo fino dentro le ossa proprio nelle DNA ragazzi lavorare tanto per guadagnare poco un gran lavoratore sì ok sarà anche un gran lavoratore ma se una persona spende tutta la vita a lavorare per guadagnare poco probabilmente non è una persona molto intelligente non è una persona molto furba o perlomeno non è una persona che si è data da fare nel modo giusto in cui c'era da darsi da fare perché io devo apprezzare di più una persona che lavora tanto e guadagna poco rispetto a una persona che lavora poco e guadagna tanto capite che c'è qualcosa di completamente sbagliato in questo ragionamento capite che non è corretto non può in senso assoluto essere un paese che punta alla crescita che punta a far migliorare i propri cittadini la qualità della vita a cercare di fare impresa di produrre di proporre qualcosa di migliore se le narrative sono che essere poveri è bello capite che c'è qualcosa proprio di concettualmente sbagliato in tutto questo proprio direi quasi contro natura eppure sono riusciti ragazzi a farci entrare esattamente in questo meccanismo io non so voi che cosa ne pensate questo è tipo un matrix intanto guardate che bel posto in cui sono con un giardino veramente immenso c'è laggiù c'è il lago ora dal telefono non riusciamo a vederlo però come al solito ragazzi quando vado in qualche posto che mi ispira a questo tipo di ragionamenti li voglio condividere con voi su youtube perché voglio cercare ragazzi di farvi cambiare un po' questa mentalità questa mentalità che vi porta poi tendenzialmente a sbagliare a non studiare a non impegnarvi a non applicare determinati concetti perché vi andate ad autogiustificare ad auto accontentare con delle storielle che in realtà non esistono ragazzi nella povertà non esiste nessun valore ripeto statisticamente è vero che un povero tendenzialmente apprezza di più le cose possiamo parlare in senso filosofico quanto volete ma dal lato finanziario ragazzi essere poveri non è bello non è bello essere poveri dobbiamo smetterla di incoraggiare la povertà questo deve essere un paese dove iniziamo ad incoraggiare la produttività dove cominciamo ad incoraggiare il fare il guadagnare spendere quello che giustamente e meritatamente una persona è riuscita a generare dobbiamo smetterla di pensare che guadagnare 1200 euro al mese sia la normalità non è la normalità non è giusto ragazzi smettetela di credere che quello è quello che questo è quello a cui dovete ambire perché a livello anche morale è migliore rispetto invece a una persona che guadagna tanto perché una persona che guadagna tanto spreca di più è cattiva si è dato al dio denaro ragazzi noi viviamo in una società capitalista dove dal momento stesso in cui tu esci di casa sei in una competizione continua e costante e una persona che riesce a trovare un modo per lavorare poco e guadagnare tanto è una persona che merita la mia stima non il mio disprezzo e io spero che tu sia d'accordo con me fammelo sapere magari anche qua sotto nei commenti perché io penso che sia pericolosa io penso che sia pericolosa questa mentalità io penso che una mentalità del genere dove si dà un valore alla povertà sia una mentalità che non ti porta a crescere che non ti porta a migliorare che non ti porta ad avere i giusti preconcetti sapete qual è stato il mio il mio primo pensiero quando ho deciso di iniziare a fare business proprio quello di capire come fare a staccare il tempo dal denaro come faccio a guadagnare senza dover per forza dedicarci x ore al giorno come faccio a costruire qualcosa un'impalcatura un sistema che mi porti ad essere libero finanziariamente sapete che cos'è la libertà finanziaria per me? la libertà finanziaria è la possibilità di scegliere la possibilità di avere il tempo di fare quello che voglio senza dover dire sì signora a nessuno questo per me ha un valore questo per me è libertà e come potrei mai raggiungere la libertà se io iniziassi a ragionare pensando che no però se io guadagno lavorando solamente tre ore quanto guadagna uno che va in miniera e lavora 12 ore al giorno e io magari in due settimane ho fatto un anno di suo stipendio allora sono una persona che non va bene sono una persona cattiva sono una persona che mi devo sentire in colpa in qualche modo in Italia ci sentiamo in colpa ragazzi ad avere soldi ma ci rendiamo conto di quanto può essere sbagliato questo concetto lo vogliamo sradicare lo vogliamo togliere lo vogliamo estirpare proprio dalla società io non mi posso sentire in colpa perché ho una Ferrari che non ho una Ferrari ragazzi però per dirvi non mi posso sentire in colpa sia una Ferrari me la voglio comprare me la posso permettere ma qual è il problema perché ci deve essere qualche idiota che me la deve rigare per forza perché ci deve essere sempre qualcuno che ti guarda con quest'aria da ah eccolo lui sicuramente è figlio di Berlusconi è figlio di un ereditiero sicuramente ecco lui è ereditato se no non poteva o lui sicuramente ha fatto chissà chissà che poccata ha fatto o se vediamo una donna con le donne poi questo questo ragionamento con le donne è incredibile se vediamo una donna che ha successo chissà chi l'ha data chissà chi si è fatto chissà di chi si è sposata come se le donne non potessero assolutamente raggiungere nessun tipo di traguardo se non con il loro corpo sì è vero molte utilizzano il loro corpo per raggiungere traguardi finanziari obiettivi va benissimo alcune lo fanno consapevolmente altre un po' meno però comunque tendenzialmente è vero ok c'è chi lo fa ma non tutte ragazzi intanto cerco di mettervi a fuoco anche il panorama dietro perché secondo me merita però a me questi ragionamenti mi fanno proprio arrabbiare mi fanno proprio arrabbiare perché mi faranno proprio capire di essere un pesce fuor d'acqua di far parte veramente di una minoranza di persone che la pensano così io spero che invece ci sia altra gente tanta altra gente che la pensa come me perché se no siamo messi male ragazzi se no io non posso io non vedo un futuro per il mio paese in questo modo non posso vedere un futuro perché nessuno mi chiede io ecco ragazzi io impazzisco perché nessuno mi chiede mai no se una persona guadagna io sono convinto sono stra convinto che tante persone che conosco io personalmente magari sono lì che vorrebbero capire come migliorare la loro vita perché non mi chiedete qualcosa se pensate che io posso aiutarvi perché pretendete che siano gli altri a dovervi dare qualcosa perché dovete pretendere che qualcuno che magari ha avuto un successo anziché chiedere io sapete cosa faccio quando vedo persone che guadagnano tanto che voglio arrivare al loro livello io mi metto dietro di loro cerco di essere utile cerco di capire cerco di rubare quante più informazioni sì in questo caso è rubare quante più informazioni possibili per poter arrivare come loro poter essere come loro poter migliorare come loro ecco questo secondo me è quello che dovresti fare perché invece mi guardi chi è sopra di te e chi ha uno stile di vita migliore del tuo con invidia oppure addirittura fai finta che non ti interessi che non è vero a chi piace vivere nella povertà a chi piace vivere che non che quando va fuori al ristorante deve guardare il prezzo della del menù della pizza che si va a ordinare se costa due euro in più due euro in meno perché altrimenti non non se la può permettere a chi piace vivere così a pochissimi ragazzi non raccontiamoci cavolate smettiamola di dare concetti sbagliati smettiamola di autoconvincerci nella nostra testa che la povertà sia un valore ragazzi la povertà non è un valore io voglio farvelo passare in testa mettetevi sotto iniziate a lavorare iniziate a capire come fare per uscire da questa situazione e soprattutto uscire da questa mentalità ora scatenatevi sotto nei commenti però questo video secondo me è veramente importante perché non è possibile sono stufo ragazzi sono stufo di leggere certe cose ciao al prossimo video